intitolato hot logo è un lavoro online che ho scoperto stanotte che è gratuita l'iscrizione e anche gratuito lavorarci e quando si arriva a 20 dollari di quota si possono prelevare soldi e adesso vi andrò a fare vedere il sito cercate hot logo su google così come sto facendo io fate invio eccolo qui ma praticamente questo sito allora per iscriverti si va qui per iscriversi si clicca per iscriversi si qui sul sit up e vi si apre questa finestra qua dove mettete il nome cognome email e password e ripetete la password e poi fate sul sit up e sono già registrata quindi ritorno indietro faccio sig in vi si apre una volta registrati ogni volta che dovete entrare vi si apre questa finestra su sig in digitate va bene io digito la mia la mia mail l'ho digitato e faccio e vado su sig in lasciate sempre l'inglese vi si apre questa finestra qua di hot logo qui vedete le informazioni sulla vostra registrazione e poi se dovete andare per scegliere il metodo di pagamento cliccate su setting su setting scorrete giù col mouse andate su payment setting vedete payment setting e scegliete qui i metodi di pagamento che vedete qua io ho scelto paypal e ho messo l'email di paypal qua sotto e ho fatto save salva qui poi ritornando indietro poi ritornando indietro aspettate che ricarico questa pagina ecco qua su finanze vedete le vostre finanze io sono arrivata vabbè ho iniziato da ieri notte quindi sono arrivata a 16 e 30 di dollari e qui invece sul referral system vedete il mio link referale che poi metterò nel box di youtube ecco potete vederlo e anche copiarvelo da qualche parte da qualche parte il mio link e referale andando sotto invece si inizia con il lavoro con il lavoro che adesso io vabbè come vedete come vedete ce l'ho tutti tutti già fatti però qui quando si può c'era scritto asciuse ci cliccate e poi andate a fare il lavoro insomma dovete trovate per ogni logo trovate sei quadratini ecco